La Casa Famiglia Tamburo di Latta è una delle prime comunità per minori, nata a Salerno nel 1992 grazie all'Associazione Ipotenusa e adesso gestita dalla cooperativa Il Villaggio di Esteban dal 1997. L'idea di questa comunità è nata da Donata De Falco e Paolo Romano per creare un luogo d'accoglienza per bambini e ragazzi in difficoltà. Come è nata? È nata grazie all'idea, alla disponibilità mia e di mia moglie Donata nel creare un luogo di accoglienza per bambini e ragazzi in difficoltà. In più di 30 anni noi abbiamo accolto circa 40 tra minori di diversa provenienza e negli ultimi anni stiamo accogliendo anche ragazzi che vengono da altre nazionalità, i ragazzi degli sbarchi, quindi abbiamo dei ragazzi che vengono dal Pakistan, dall'Egitto e comunque continuiamo ad avere anche ragazzi italiani. Lo scopo della Casa Famiglia è accogliere in un periodo temporaneo ragazzi che hanno difficoltà di natura familiare. Ovviamente perché i ragazzi che vengono dall'estero si date e dà gli un sostegno perché sono minori e non hanno qui nessuno. Con l'aiuto della figlia e degli educatori si impegnano ad aiutare i ragazzi con programmi personalizzati e aiutandoli a farli entrare nel mondo scolastico e lavorativo. Come fa notare Paolo Romano, dietro a tutto questo c'è un grosso lavoro educativo come figure genitoriali dove si costruisce un progetto educativo per ogni ragazzo, saltando con cura la situazione dei ragazzi, dato che risultano molto complesse, dove non è facile il rientro nelle famiglie naturali oppure risulta difficile per i ragazzi stessi diventare autonomi. La cosa che volevo sottolineare è che la Casa Famiglia è una famiglia come le altre, quindi è in un normale condominio e vivere dinamiche di una famiglia. Questo la rende un'esperienza speciale, particolare, quindi non è né un servizio sociale tradizionale. È una famiglia allargata, una famiglia che si allarga all'accoglienza e quindi ha un lavoro genitoriale di altri ragazzi temporaneamente.